Ben ritrovati, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video è stato di vostro gradimento, come la definiamo? Come quelli che parlavano bene con un termine che ancora oggi è estremamente affascinante, partita pirotecnica, partita emozionante, ma intanto io direi una cosa, il tanto bistrattato campionato italiano che tante volte critico anch'io, la Serie A modesta, inguardabile, che vale meno, tante volte si dice del campionato turco, beh io direi che questa sera chi ha guardato questa partita all'estero si è divertito, poi ci sono stati degli errori, si sa che quando ci sono comunque tanti gol è perché qualche errore c'è, ma cosa è meglio? Qualcuno dirà è meglio vincere, avrei preferito vincere 1-0, non posso non essere d'accordo, però chi costruisce una mentalità così schematica, una mentalità che non va oltre, che non ha la capacità di spiegare le ali ed aprire il volo, mai la recupererebbe una partita da 2-4 a 4-4, soprattutto per come si è svolta, per la dinamica, perché tu vai sotto 1-0, vai avanti 2-1, non hai neanche il tempo di acquisire consapevolezza di aver ribaltato il risultato San Siro che prende il 2-2 e il 3-2 come si suol dire in un'amen. All'inizio del secondo tempo l'Inter fa di tutto per chiuderla, raggiunge il 4-2, sembra una Juve completamente morta, ma una Juve che ha mentalità non è morta. Ma sapete la cosa che più mi è piaciuta? Non è stato neanche il fatto di aver raggiunto il pareggio, che comunque considero un grandissimo risultato, questa potrebbe essere una partita che ci fa svoltare, potrebbe essere una partita che ci può dare tanta autostima. Quello che mi è piaciuto è che dopo il 4-4 abbiamo capito che l'Inter era in difficoltà e abbiamo provato a vincerla esattamente come l'Ipsia, poi non può andarti sempre bene, ci mancherebbe, puoi anche rischiare di perderla, ma io preferisco perderla una partita piuttosto che avere la mentalità del punticino, del pareggio, del tatticismo dello 0-0, con il quale magari vincerai qualche partita in più, ma non costruirai niente in fatto di mentalità e in fatto di prospettive future. La Juve era molto rimaneggiata, all'Inter mancava un giocatore importantissimo, intanto faccio i complimenti a tutte e due le squadre che hanno sbagliato tanto, per l'amor del cielo, non vi sto vendendo la partita per un capolavoro calcistico, una partita che finisce 4-4 chiaramente ha dentro di sé tantissimi errori, però sono due squadre che non hanno mai rinunciato a provare a vincerla, che hanno dato spettacolo, che non si sono risparmiati in campo, quindi i miei complimenti vanno anche ai rivali nerazzurri, non soltanto alla Juve. La Juve, io l'ho detto che la partita di Stoccard era troppo brutta per essere vera, non credevo che la Juventus fosse così in crisi, ma ho sempre pensato, l'ho detto nel video di sabato scorso, che Tiago Motta possa essere, e lo penso ancora che potesse, e quindi che oggi lo penso ancora che possa essere, l'uomo giusto per costruire qualcosa. Naturalmente nelle costruzioni ci vuole pazienza, il calcio è cambiato, ma soprattutto non ci sono più i mezzi di un tempo, figuriamoci, venite a toccare a me Marcello Lippi, che lo ritengo il più grande allenatore della storia bianconera, è vero, Lippi ha vinto subito, intanto forse Lippi aveva esperienze più importanti rispetto a Tiago Motta, perché dopo essere stato al Cesena, all'Atalanta, era andato al Napoli, aveva portato in Coppa UEFA il Napoli, Motta ha portato in Champions il Bologna, è vero, però è stata una sorpresa, quel Napoli era già programmato come squadra da terzo, quarto posto, non è stato un esploit, questo intendo dire, e bisogna dare il tempo, non hai più la possibilità come quando arrivò Lippi di andare a prendere Paolo Sosa, Ciro Ferrara, tutti questi personaggi, Bjerkovo d'anno successivo con il quale vinciamo la Champions League 1996, dunque ci vuole un po' di pazienza e un po' di tempo, un tempo, un tempo, per comunicare l'esito di una guerra, venne mandato da Maratona ad Atene un soldato a fare 42 chilometri a piedi, lo soldato arrivò e solo allora, solo allora si seppe il risultato finale, adesso non abbiamo bisogno di fare una Maratona, né di fare 42 chilometri, né di morire prima di sapere, prima di vedere un progetto realizzato, non è questo il paragone, era soltanto una provocazione, sia ben inteso, ma sta di fatto che sta nascendo una Juventus interessante, all'Ipsia poteva essere un esploit, poteva essere un caso, adesso non è più un caso, una Juventus che gioca veramente fino alla fine, ma soprattutto una Juventus con mentalità. Io sono convinto, e lo dico, che sarà difficile che quest'anno vinceremo qualcosa, però sono altrettanto convinto che vedremo delle belle partite, vedremo una Juve che piano piano crescerà in autostima e vedremo una Juve che l'anno prossimo sarà prontissima per vincere e che secondo me farà anche una buonissima Champions, se avrà magari la fortuna di andare a incrociare le lame con un'avversaria non impossibile. Ovviamente non si può non fare nell'economia del campionato un discorso generale a dire che questa sera ha vinto Conte, nel senso che comunque se avessero chiesto a Conte quale avrebbe potuto essere il risultato a lui favorevole è chiaramente il pareggio. Ha preso due punti all'Inter e ha preso due punti alla Juve. Detto questo io non guardo la classifica, secondo me anche la mentalità di Motta, qualcuno oggi a Tele Lombardia mi diceva si nasconde perché non parla mai di obiettivi, dice la prossima partita, ma non credo che possa dire altro. Motta non si è mai nascosto, ha detto che alla parola Juve accosta la parola ambizione e l'ambizione non è soltanto la vittoria, io sono sempre dell'idea che nella lingua italiana tante volte si vadano a forzare, uso questo gergo cestistico, delle frasi pronunciate da persone importanti, alludo al motto bonipertiano, vincere è l'unica cosa che conta, non vuol dire che per vincere bisogna giocare male, non vuol dire che per vincere bisogna far schifo, vuol dire che alla Juventus ci deve essere una mentalità ed è quello che con tanta pazienza Tiago Motta sta provando a costruire. Certamente dovremo passare alle forche caudine, certamente passeremo per delle sconfitte, ci saranno dei momenti in cui ancora Motta verrà motteggiato, Motta verrà insultato, Motta verrà ritenuto non all'altezza della Juventus, passeremo anche attraverso questi momenti, è inevitabile perché la stagione è lunghissima e perché ci saranno inevitabilmente dei passi falsi, però questa è la mentalità. Da quanti anni si pensava che una partita sotto poi tra l'altro a San Siro contro i campioni d'Italia, dopo aver preso 4 gol che su 4-2 è diverso da 2-0 dal punto di vista psicologico, la squadra andasse avanti, cercasse il 4-4 e soprattutto dopo il 4-4 leggesse il momento di difficoltà dell'avversario e non si chiudesse a dire portiamoci a casa il pareggio, proviamo a vincerla a costo di perderla, questa mentalità alla faccia del cortomuso. Chiudo con una nota di merito ad Hildiz, anche su questo Tiago Motta non ha sbagliato, lo ha messo in panchina e ha scatenato tutto l'orgoglio del talentino turco. Fino alla fine forza Juventus e alla prossima puntata.